Il garante della privacy, a seguito di segnalazioni di imprese, enti e singoli cittadini, ha vietato l'ulteriore trattamento di dati personali a quattro società che inviavano pubblicità tramite fax o e-mail, senza aver acquisito il consenso preventivo e specifico dei destinatari. È quanto reso noto dalla autorità nella newsletter numero 339 del 24 giugno scorso. In particolare il garante ha riaffermato il principio che, a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati fax, e-mail, sms, mms, è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari. Il mancato rispetto del divieto comporta le sanzioni amministrative e penali previste dal codice privacy, nonché l'eventuale risarcimento del danno da far valere in sede civile.